Ciao Beppe. Ciao Fabio. È la partita decisiva del campionato? Sì, assolutamente. Questa è la partita decisiva con una cornice di pubblico fantastica. Abbiamo visto anche i tifosi vicini. E questa è la cosa più bella. Sono tantissimi anche i tifosi della Juventus. Moltissimi. Con le maglie della Juventus accanto a quelli con le maglie dell'Inter. E direi che è il miglior messaggio per cominciare questa gara. E' gol. 1-0. Aerea, no, sul gioco aereo. Vediamolo. Lente. Secondo me non la tocca nessuno. Non la tocca nessuno. Nemmeno con il braccio forse... No, no, no. Con il braccio direi di no. La sfiora forse si vede. È il punto più vicino di contatto col pallone il braccio. Era per quello. Secondo me non se ne erano accorti al Barbeppe. Annullato, fuori gioco. Dai, ma era nettissimo. No, non la tocca nessuno. No, non la tocca nessuno. In pratica No, non la tocca. Dovise al Barbeppe. Allora di. 'sa. Ho. Di ora. Fallo.